Dove sei? Ciao, sono nella cascata Wow Questa è quella piccola, è una grande e poi c'è un fenomeno nuovo che sto vedendo per la prima volta che è la neve La neve è nuova Non ho mai visto la neve e quella è acqua, la temperatura come si può ben immaginare calda Grazie